E ve lo ripeto così nel frattempo vi cercate una... Che bella cosa! E' una giornata e sole. Allora, posso finire il mio ragionamento? No, perché se no poi le scopre stavo... La prego vero? Le streghe si incastrano, mettono in moto, le scopre vanno. Allora, l'altra sera stavo guardando la fattoria ed è arrivata una personcina. Come sono messi in mano? No, innanzitutto devo dire che... Come sono messi in mano? No, belli, mamma. Non mi ti piace? Essere belli lì è dura, eh. Cioè, adesso te lo dico, lì è proprio cattiveria. Cioè, lì è cattiveria. Lì ci puoi mettere dentro anche, ma chi ti posso dire, Garco, che penso è uno degli uomini più belli del mondo. Oh, bello, bello! Poi non gli è dato un rasoio per farsi una barba per 20 giorni. Come sei bello, Garco? Non è che rimanga... Comunque, Garco non c'è. Quindi, inutile che ne parliamo, perché lui non c'è. L'avrebbero voluto loro. Anzi, è a Parigi, quindi non è nella vera fattoria. Ma l'avrebbero voluto loro, gli sarebbe piaciuto. O vai a chiamare Ruffoni, che gli metta un tappo in bocca alla strega madre, o io vado via. E io lo faccio parlare. Eh, no, perché... No, se arriva... Sta lontano, perché sa che lei va all'annando. Allora, arriva una che si è attaccata da quando è uscita un chilometro di capelli, proprio i capelli lunghi, che arrivavano i capelli e poi arrivava lei. Era vestita di capelli, vero? Finti. Fatti anche da cani, devo dire, ne fanno di molto meglio, eh, volendo. Poi non è che manchino le possibilità lì, quindi si può spendere un pochino di più. Poi te lo fanno gratis, perché comunque, bello, brotti, van, van, tot, per la pubblicità. Questo è un bello slogan, vedi? Bello, brotti, van, van, tot. Dialetto bolognese, belli e brutti, van, van, tot. Eh, ma la Katia, ad esempio, non ha mica capito cosa vuol dire bello, brotti, van, van, tot. L'ho tradotto. Belli e brutti, van, van, tot. Allora arriva questa e dice che lei, dopo una settimana, lei si è elevata all'ennesima potenza. Lei ha scoperto delle cose, vero, della sua personcina. Ma cosa vuol dire? Che ringrazierà sempre la produzione di aver girato quel rubinetto da cui non usciva l'acqua. Ma lei non avrà mai parole sufficientemente lodevoli verso queste persone che l'hanno portata in questa fattoria. Perché lei, il fatto di dormire su un pagliericcio, lei ha scoperto delle cose che hanno arricchito il suo... Aspetta. Hanno arricchito il suo rapporto con i figli. Bellissimo. Hanno apportato una persona nuova al suo consorte, vero? Fantastico. E lei è diventata una roba che... Ma una roba che... Madre Teresa di Calcutta, poverina, per carità, non è neanche... Ma lei non sapeva dove, dove, dove si è diventata questa? Allora dentro di me io pensavo... Oh, mi cagano! Ma dopo 61 giorni di San Vittore io e mia madre senza acqua e senza tante altre cose che poi un giorno vi diremo e ci facevano lavare, quando lo dicevano loro con l'acqua il più delle volte fredda, ma dove mi sono elevata io? Ma dove siamo arrivati io e mia madre? Forse per quello che adesso guidiamo la scopa. Forse per questo che io e te guidiamo la scopa. Allora, io nella vita tolero tutto, però non reggo la gente che si fa mettere dentro i posti volutamente con tanto di contratti studiati dai migliori professionisti del mondo del mondo, con tanto di chi ti cura l'immagine, il look, la camminata, la scarpa, il mantello, il ciuffo l'occhio, il controcchio e non vi dico cos'altro prende dei soldi, si assicura un'uscita piena di fotografi, di trasmissioni televisive, ospitate e soldi e vuol fare la martire e pure la santa. Senta un po'. Questo non mi va, mi dispiace, ma non mi va. Ma siamo noi i complici, eh? Sì. Noi siamo i complici di questa cosa che sta succedendo perché noi siamo un branco di guardoni, tutti mi ci metto di mezzo anch'io perché non sto dicendo a voi, eh? Cioè io sono la prima che li guarda e mi darei delle sberle, delle sberle mi darei e anche dei pizzichi perché mi odio, perché guardo queste schifezze. Però le guardo e vi dico anche perché le guardo, perché poi io sembro scema, eh? Siamo una strega scema, ma in realtà le streghe sono cattivelle ma sotto la cattiveria ce l'hanno la cume da strega.